Musica Amici di Professione Web, eccoci finalmente arrivati all'interno della nostra puntata numero uno, quella tanto attesa da tutti quanti voi, perché? Perché oggi siamo venuti qui a Roma, nella capitale, nella nostra amata capitale, per intervistare il nostro personaggio misterioso. Chi sarà? Per ora non ve lo dico. Forse l'abbiamo trovato. A questo punto andiamo a vedere se il citofono ci può essere d'aiuto. Oh, 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 finalmente ci siamo arrivati. Perché dico finalmente? Perché Sara Canducci è stata così brava, così furba, così intelligente, che non ha chiesto al proprio personaggio famoso a che piano doveva andare. Quindi mi sono fatta le scale su e giù, sono un altro posso dire di aver fatto un po' di ginnastica. Allora, qui, come ho detto adesso, c'è il nostro personaggio misterioso. Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Andiamo a suonare. Chi è? Chi è? Fuori. Oh no, oh no. Cepolino! Cepolino! Che lo vuoi? Vorrei fare un'intervista. Ah, ma c'è la Sara. Eh, chi? Ah, vieni dentro, vieni dentro. Prego! Sì, ma lui no. Lui non puoi fare un'intervista. Ma chi è? È il mio camera, me lo sono portato dietro, ma è anche il mio bambino. Ma è troppo alto. Eh, va bene. E va per cosa? Poi è andato via, non c'è più. E adesso? Dove è andata? Ci sarà un amico offeso. Allora, chiamo tua mamma. Chiamo mamma. Mamma! Dove è la mamma? Mamma! Chiamala! Mamma! Mamma! Arriva, 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 arriva. Sì, mamma! Ma quello è piccolo, eh? Eh sì, è la metà di me! Eh, allora lo vabbè! Andiamo! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno della prima puntata di Professione Web. Finalmente! Eh sì, perché dice finalmente anche il nostro massimo? Perché sono settimane che stiamo attendendo di cominciare queste riprese con il nostro personaggio misterioso. Beh, più che settimane sono mesi che ci frequentiamo noi. Non virtualmente però, insomma, è una frequentazione, è una conoscenza che dura da quanto tempo? Da quasi due anni. Eh, quasi due anni. Quasi due anni. E questa signorina Sara sta facendo dei grandi progressi. Ed è per questo che ho accettato di parlare con lei, ho accettato di parlare con voi anche. Perché siamo un po' avanti nella tecnologia, bisogna cercare di aprirsi un po' alla nuova comunicazione, a qualcosa che va di incontro ai giovani. E siccome io mi sento ancora come se fossi un bambino, come se fossi un ragazzo, perciò sono curioso di tutte queste novità, tutto questo futuro, questo nuovo secolo come è iniziato. È iniziato all'insegna della tecnologia. Allora, vediamo. Voglio vedere dove vuole arrivare con la tecnologia. Voglio vedere. E beh, può arrivare molto in là Massimo, anche perché può arrivare persino a offrire un lavoro, soprattutto ai giovani, e sappiamo che di questi tempi il lavoro non è facile da trovare. No, no, soltissimamente. Io ho mia figlia Manuela, che ha appena costruito in questi giorni un piccolo vlog, però sulla cucina, sui dolci, special mode, si chiama Manuela Voldi, e proprio ogni tanto mi manda questi suoi nuovi progetti, per il momento sono solamente abbozzati, però insomma si stanno ingegnando anche loro, insomma si vede che il lavoro è il futuro. E la seguiremo ovviamente. È su Twitter? Sì, sì, è su Twitter. La Manu è chiamata. La Manu, quindi seguitela e continuiamo a guardare anche i progressi di questa nuova signora Voldi. Signora Voldi, sì. La signora Voldi. Molto bene, allora torniamo a parlare di professione web. Abbiamo detto che nasce per dare consigli ai giovani e meno giovani che hanno voglia di intraprendere una professione attraverso il web. Come facciamo? Andremo ad intervistare tutti i personaggi che hanno comunque trovato un lavoro attraverso il web o che comunque hanno trovato un modo per arrotondare a fine mese. Una domanda. Oh, ma con il web ci sono i sindacati o non ci sono? La cosa bella e brutta del web, ecco perché serve uno spirito diverso. È una giunga ancora. È una giunga. Sai... Bisogna essere sei tra i pionieri. Beh, bravo, bravo, bravo. Diciamo, la cosa bella e brutta del web, dopo va in base al carattere. Che può succedere di tutto. Sì, assolutamente. Ma bisogna essere imprenditori di se stessi. Esatto. Cosa molto importante. Quindi, se una persona ha del talento, quindi magari riesce a dare un prodotto al pubblico, ecco il web è il modo migliore per riuscire a offrirlo nel migliore dei modi e prendere un'ampia clientela. Tant'è vero che, correggemi se sbaglio, oggi i nuovi talenti, anche per quanto riguarda radio, televisione, cinema, vengono per essere da lì. Vengono anche da lì. Anche da lì. Anche da lì. Io ad esempio ho dato l'opportunità ad un talento del web, che è Guillermo Schiller, di fare un film con me, che era Matrimonio a Parigi. E poi credo che abbia fatto altri film, ma con meno successo, perché poi probabilmente non è quello che vuole fare lui, forse vuole fare un altro lavoro. Però ha avuto l'opportunità che ce l'ha subito presa e credo che gli abbia portato sicuramente bene. Questo è quanto. E quindi io ti faccio una domanda. Cosa serve per essere notati? Guarda, per essere notati bisogna essere originali. bisogna avere qualcosa che altri non hanno, perché sembra facile cercare di imporsi al pubblico con un personaggio. In effetti, a meno quello che riguarda il sottoscritto, il pubblico recepisce quello che veramente sei, come sei, quello che sei e cosa fai. Uno ha una dote, ha un talento nascosto, l'altro ce l'ha meno, quello che non ce l'ha per niente. Tant'è vero che vedi anche questi talent show che vengono fatti con le televisioni, si fa tanto rumore, si fa tanto spettacolo, ma proprio quello che poi alla fine ne esca uno in un modo è importante, è molto difficile. Soprattutto, che cosa succede? È un discorso abbastanza lungo, io l'ho fatto anche agli studenti questo discorso nelle scuole. Che cosa succede? Succede che un artista, quando inizierà a far guadagnare un qualche cosa che gira intorno a questo ambiente, allora comincia ad essere supportato, comincia ad avere una credibilità e dalla credibilità, piano piano, si fa una carriera. Se il presunto artista non riesce a superare questo gradino, è un po' più difficile che sia fermi, è molto complicato. Quindi il tuo consiglio è comunque quello, se ho capito bene, di continuare a essere se stessi, cioè non cercare di essere quello che non sei, perché in qualche modo il pubblico lo ricepisce. No, ma hai voglia. Io non so, ad esempio ho visto tante tue imitazioni che tu hai fatte, ecco vedi, quello è già un talento che nessuno ti ha insegnato a fare quello che tu fai, giusto? Esatto, viene perché ce l'hai, poi può piacere o non piacere, però bisogna ammirare la forza di volontà e non solamente quella ma il fatto che tu ti sia messo nelle condizioni di inventarti un personaggio anche imitandolo quello che vuoi, ma insomma è il talento dopo, se quello sarà il tuo lavoro nel futuro, sicuramente hai già cominciato a tracciarlo. Questo è quanto, tanti invece immaginano, che poi la cosa principale, guarda quando io comienzo i Annacci negli anni 70, facevamo il cabaret, avevamo fatto una cinecommedia che presentavamo al derby, che poi è stata fatta anche per Rai 2, che era intitolata la tappezzeria, in questa tappezzeria c'erano io che ero il protagonista, poi c'erano tutti sconosciuti gli altri, compreso io non ero tanto conosciuto perché erano 77, però io avevo già fatto alcune cose, c'era Diego Batantuono, c'era Giorgio Faletti, c'era Giorgio Porcaro, c'era Ernestone, c'era Guido Micheli, c'era Mauro di Francesco, c'era Francesco Salvi, voglio dire, eravamo tutti, eravamo un gruppo di ragazzi con la volontà, con la voglia di dire, ma che cosa raccontavamo in questa commedia? raccontavamo la voglia di andare in televisione perché andando in televisione è sicuro che diventi il tuo famoso, la verità è che non è così, è vero una cosa, è vero che se tu metti chiunque davanti a una telecamera 5 minuti al giorno in silenzio che non dice niente, su una televisione è importante, su un emittente è importante, dopo un mese che fai 5 minuti al giorno senza dire niente, già sei un personaggio, poi devi aprire la bocca, poi devi cominciare a parlare, poi devi cominciare, allora quello comincia a diventare difficile, allora un conto è diventare popolare, è un conto è cercare di produrre, di fare produrre, il talento viene, perché ce l'hai e viene espresso solo quando viene recepito dal grande pubblico e il pubblico riesce poi a seguirti e questo crea produttività e crea un giro molto importante che ti fa crescere non solamente te ma anche è tutto quello che ti ritorno a questo. E questo è un discorso molto importante che comunque si ricollega a un concetto che ho sempre espresso io personalmente, ovvero che il talento non si insegna, cioè nel senso che spesso si chiede come si fa a diventare comico, come si fa a diventare cabarettista e non può esistere scuola e non potrà esistere mai, perché viene istintivo, se non sei capace di imitare non sarai mai capace, ti viene da dentro, viene sperimentando ovviamente, però io chiedo conferma a una persona che ha fatto della pubblicità il suo lavoro, quindi io chiedo conferma. Però vedi, se devo essere sincero, io quando facevo le scuole elementari, quando andavo all'asilo, io già facevo ridere i miei compagni, non è che lo facevo perché sono così, tant'è vero che mi è rimasto addosso il soprannome di Cipollino, perché è un personaggio, è come se fosse il cartone animato e di conseguenza io sono ben felice che mi richiamino ancora così. Cipollino! Anzi, rimane a Cipollino, va avanti, è un'anima candida, è un'anima pura, un'anima innocente, ingenua, sincera e questo fa felice soprattutto le generazioni. Mi meraviglio io ancora oggi che i bambini, ma i bambini vedono i miei film in televisione fatti anni fa e impazziscono, diventano vatti. Allora questo mi piace e vuole dire che i genitori l'hanno passato i loro figli, i figli l'hanno passato i loro figli e questa è la quarta generazione, perché sai che la generazione sono dieci anni. Io sono 38 anni che faccio questo lavoro, sono quattro generazioni. Ma quattro generazioni con un grande affetto, con un grande successo e questo tu vedi anche i film che io ho fatto in tanti anni, i film di Natale, sono film che erano classificati come dei filmacci. filmacci. Beh sì, no, è la verità. Oggi sono straordinari, sono stati riscoperti. è una cosa che io dico sempre, ovvero che le cose belle non passano mai, cioè per dire i bambini di oggi guardano ancora Heidi, quanti anni Heidi? Beh perché? Perché è un bel cartone animato, insegna bene o se non altro magari fa ridere. Le belle cose non cambiano mai, i bambini non cambieranno mai. i bambini diventano grandi, poi diventano cipollini. Parliamo seriamente, vediamo di essere seri. Allora, sono sempre Sara Caducci che mi parla da questa evidente televisiva. Come mai mi sono messa qua? Perché prima stavo lì, adesso sono qua. Abbiamo fatto una magia. Massimo, dimmi come abbiamo fatto questa magia. Ma Sara, io non lo so, la magia è la Roma, è quello che vuoi, no? È la magia del cipollino, è la magia del cipollino, è la magia del cipollino. Cipollino, sai che cipollino raccontava le bandellette? No? Quelle che non fanno ridere. Ti mettiamo alla prova, ti mettiamo alla prova. Mi raccontava una, diceva, c'è dei topolini che vanno al cinema, dicono, non c'è gente stasera? Ah, quattro gatti. Via, 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 via. E questo che ho guardato la cevo. Oppure quel altro che ha telefonato diceva? Pronto, sì, no. Cioè, per dirti, io mi sono fatta quattro ore di macchina per venire qui. Beh, in macchina, con una gip o con la macchina? Perché c'era neve. Sì, è la macchina, solo che è bravo il pilota, che attualmente sta anche riprendendo, è il cameraman. Ah, il cameraman. Ok, è vivo, è vivo, ce l'abbiamo qua. Mi ha parlare del fatto che tu sei una persona molto social, tant'è vero che noi ci siamo conosciuti appunto su Twitter e grazie a YouTube. Sì. E quindi, ti volevo dire che, insomma, ho scaricato dall'App Store di Apple la tua applicazione iboldi. Ah, bello, quella è molto carica. Bisogna rinnovarla un po', adesso bisognerrebbe lavorarci un po'. Oh, io la butto lì, quando vuoi, io faccio quel lavoro lì, eh. Eh, sì, fatti, fatti. Io la butto lì, eh. Parliamone, parliamone. Cosa fa attualmente questa applicazione? Ma attualmente si vedono i teaser e i prossimamente dei film che ho fatto, poi ci sono da scaricare delle suonerie, poi ci sono delle fotografie, degli articoli giornali, insomma, è un panorama, un po' di una volta e di oggi, insomma, c'è un po' di tutto, cioè. Ma che alla fine è sempre rimasto uguale. Sempre rimasto uguale, sì. Ed è quello lì l'importante. Adesso, solamente l'unico problema che in questi giorni mi sta affliggendo è che c'è una fascite plantare al piede, vedi? La fascite plantare è un'infiammazione che viene alla fascia del piede e poi partita a camminare. Ma questo succede specialmente a quelli che sono sportivi. Io non faccio nessuno sport. Però... Però suonando la batteria, suonando la batteria, tum 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 tum, si è infiammato il parosmiaus e di conseguenza... Adesso sono sotto cuore, vabbè. Di conseguenza che è doloroso. Però è molto... Dolore! Ah che dolore! Dolore terribile! Ho sentito un male, non ho sentito niente. Infatti io l'ho chiamato per fargli gli auguri e ho detto Massimo come stai? Sto male! Perché? Perché? Ah dolore! Insomma lei passerà, passerà. E allora a questo punto direi che la trasmissione sta avvolgendo positivamente al termine, quindi che direi? Allora facciamo una cosa, diamoci un appuntamento. Diamoci un appuntamento, prossimo avventuro. Adesso tu questo è la... è la... è la numero... sono i primi programmi che tu hai fatto. È la puntata numero uno, un grande onore! Allora abbiamo inaugurato la puntata numero uno, dobbiamo cercare di rivederci quando inizieremo la lavorazione del prossimo film di Natale e poi quando il film sarà finito facciamo un altro programma sulla ripresa che abbiamo fatto sul film finito e sulla promozione del film che sarà prossimo. Quest'anno non ci siamo presentati al cinema sugli schermi ma ci siamo presentati in televisione con un Natale a quattro zampe adesso vediamo quest'anno stiamo pensando a un altro progetto e vediamo perché viviamo un momento difficile, un momento di grande crisi, un momento di grande crisi sembra che sia caduto il mondo addosso a tutti quanti, effettivamente in tutti i campi è difficile lavorare, è difficile, adesso tu prima parlavi della difficoltà di lavorare ai giovani però vedi c'è una diversità, i giovani hanno difficoltà a lavorare però poiché è un po' cambiato il mondo e la vita si è molto allungata oggi un ragazzo che ha 30 anni è come se 20-30 anni fa avesse 10 anni meno, è un po' cambiato tutto, quello che preoccupa me invece sì è giusto che siano i giovani perché io ho tre figli giovani che hanno bisogno anche loro di lavorare e di crearsi una loro indipendenza però diventa più complicato per quelli che ormai hanno già una certa età e non sanno il loro futuro, quello è ancora peggio perché tu quando hai passato una vita lavorando, creandoti una famiglia, cercando di fare bene tutto quello che hai potuto fare e ti trovi ad una condizione poi che sei arrivato la possibilità della pensione, non sanno se metterti in pensione, non sai se poi la pensione se poi conviene lavorare o non lavorare perché poi i soldi non bastano mai perché poi i figli non lavorano e allora bisogna aiutare, è veramente un grosso problema, questo è un problema serio e complicato di cui bisogna uscirle, bisogna uscirle come? Si dice bisogna uscirle con una politica giusta, ma qual'è la politica giusta? qual'è la politica giusta? Bisogna uscire con una vera democrazia innovativa, qualcosa che dia speranza al futuro, non solamente fatta di tasse e di promesse, è troppo poco, bisogna cercare invece di riuscire a superare queste fasi. Siamo il vecchio continente e il vecchio continente ne ha passate tante, passerà anche questa, però non è facile fare delle previsioni, bisogna cercare solamente di avere fiducia in se stessi e capire soprattutto che la cosa importante è la salute, che è molto importante perché se non è quella non si riesce a combinare niente, è la serenità familiare. Vero, se non hai quelle lì non sei in grado di avere quello slancio in più per dire ok mi autopromuovo, mi autoproduco, se anche sono momenti difficili ce la voglio fare e se anche ho delle problematiche voglio cercare di abbatterle, perché dopo dimmi se concordi con la mia opinione, soprattutto in momenti di crisi come questi il modo migliore è quello di uscire. Il problema, dicono che è il momento dei crisi, ma le crisi vere non sono le crisi reali, sono crisi inventate, si inventano le crisi ai politici, le banche, i sistemi di informazione e i governi di altri paesi, ma le vere crisi sono altre, non sono queste. Adesso si dice che non ci sono sciolti, ma in effetti non è vero. La vera crisi è familiare? Quando non c'erano soldi veramente, non si mangiava neanche. Oggi invece tutti dicono che sono crisi, vai in giro chi ha l'iPhone, il telefonino, la macchina, va a mangiare la pizza al ristorante, allora dove sono queste crisi? Sì ci sono le crisi, ma ci sono sempre state problemi. Insomma è un po' complesso, però abbiamo affrontato anche questo problema e comunque io ti auguro di avere quello che meriti nel tuo futuro e per questo Cipollino ti sarà comunque vicino in ogni momento. Cipollino ti sarà vicino. Va bene Massimo, io non so come ringraziarti per aver fatto da padrino, da ospite speciale e misterioso fino ad oggi per professione web e speriamo anche di rivederci più avanti quando... No ma è un promesso, lo facciamo. Promesso eh? È promesso eh? Promesso eh? Così si è scritto, così si è fatto come dicevano i faraoni di una volta. Osteria! Detto questo ragazzi, io, Sara Canducci e il nostro Cipollino! Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo, alla puntata numero due. Alla puntata numero due però ci sei, sei con un'altra, c'è con un'altra. Eh sì! Va bene, ciao! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!